Si fa ancora più inquietante il caso della donna di 36 anni aggredita lunedì scorso dal marito in un appartamento di Montevarchi, al culmine di quella che sembrava essere una lite. A soffragare lo scenario però di un'aggressione premeditata, forse con l'obiettivo di uccidere la donna, arriva il particolare che l'uomo di origini albanesi aveva indossato dei guanti e una tuta da imbianchino, forse per non lasciare alcuna traccia. Quindi non uno scatto di rabbia ma un vero e proprio piano per eliminare la donna e forse occultarne il cadavere. Al momento però è solo una delle tante ipotesi. Sulla vicenda indaga il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di San Giovanni Valdarno insieme ai militari di Levane. Gli indumenti indossati dall'uomo saranno analizzati così come l'arma a un coltellaccio da cucina di circa 20 centimetri. Un'aggressione avvenuta davanti ai figli minorenni della coppia, un bambino di 6 anni e la sorella maggiore di 14, a salvare la vita alla loro madre e probabilmente la chiamata della ragazzina ai carabinieri. Per fortuna la donna sta meglio, riportato ferite solo alle braccia, tanto che è stata dimessa dopo essere stata medicata e non è mai stata in pericolo di vita. L'arresto dell'albanese è stato convalidato il 12 gennaio. Il via al processo.